Saranno 11 le formazioni che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A di Calcio A5. Si tratta di Acqua e Sapone, Montesilvano, Pescara, Napoli, Caos Futsal, Lazio, Rieti, Latina, Asti, Fabrizio Calcio A5, Città di Sestu e Luparenze. I calendari del massimo campionato saranno resi noti sabato 9 agosto. I tornei di Serie A, Serie A2 prenderanno il via il 27 settembre. In quella stessa data partiranno anche i gironi di Serie B a 13 squadre. Il 4 ottobre invece inizieranno quelli con 12 squadre. Il 27 settembre si alzerà inoltre il sipario anche sul massimo campionato femminile di Calcio A5. Invariato il meccanismo dei play-off scudetto della Serie A, retrocederà infatti in A2 la squadra perdente, i play-out tra la formazione undicesima classificata e la squadra decima classificata. Confermata la formula delle Final Eight per l'assegnazione della Coppa Italia per le categorie Serie A, Serie A2, Serie B, Under 21 e A femminile. Cambia inoltre la formula della Winter Cup. Il trofeo sarà assegnato con le Final Four in programma il 23-24 gennaio al termine di un percorso di qualificazione più snello rispetto a quello della prima edizione. Nella due maschile riflettori sul città di Montesilvano che punta ad un torneo di vertice. In Serie B a difendere fra gli altri i colori dell'Abruzzo sarà il quintetto dello Scorpion. Con schieti i teatini sono stati inseriti nel raggruppamento D.